guarda cosa fa Kevin guarda parakiri io volevo ricaricarvi le fialette ma perchè non mi fa vedere speriamo dai per Paolo facciamo speriamo vediamo il filmato il filmato si si oh kindred deliver me unto crater heights questo sembra un po' normale questo si marghi 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 non c'erano i boss non c'erano i boss non c'erano i boss non c'erano i boss vedi 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 ma no ma sei serio la testa del drago ma che vedi vedi portalo ma no davvero ah è scappato no è morto che f***a non c'è più adesso guarda qua dove è? guarda sta scato per un'altra dove è la testa? guarda guarda è la testa Grazie.